Sbotta il governatore Vendola contro le polemiche e i veleni delle primarie che stanno interferendo con l'ultimo scorcio di mandato. Lo sfogo a margine della conferenza stampa sul piano garanzia lavoro per i giovani. L'ennesima buona notizia che non fa notizia perché la giostra medievale della politica, sostiene Vendola, ignora l'eredità di un intero decennio. Il richiamo più forte sembra indirizzato al fuoco amico incassato sulla sanità dall'alleato Partito Democratico e dal segretario Emiliano nell'intervista rilasciata al TG Norba. Vendola non replica mai deluso e irritato, lo dipingono come un comunista radicale e invece lui sente il peso delle fatiche del riformista sostenute in questi anni di successi. La carta geografica delle regioni che sono state duramente contestate dalla Corte dei Conti, in quella mappa geografica non c'è la Puglia. Nella cartina geografica degli scandali di rimborsopoli ci sono 19 regioni, manca una regione che è la Puglia. Speravo che le primarie non interferissero in maniera così molesta con l'attività di governo. Speriamo che la campagna elettorale non si mangi da parte di tutti il senso di responsabilità che bisogna avere perché per me poi ogni giorno il problema è rispondere ai cittadini piuttosto che rispondere ai partiti. Grazie a tutti.